Sì guardati su mi sposto regà andate ecco lui vai ce l'hai? vai Matteo sto dietro sotto a te bene ragazzi no era quello di prima piano Matteo piano sta accesa o no? no era lì no era lì vale 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 non lo perdiamo non ci ma che immaginate che c'avate io? over cinque anni fa una cinque anni buona notte oddio che stava così sto patrino no è bello che l'ho ripreso si? eh si grande 99% l'ho ripreso mi raccoglie mi raccoglie non so che ma vieni qui 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 lui con la bocca a strada ah no quello lì che sei slamato prima zoro 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 occhio Ale si si ti chierate una lamata? si si oh oddio mi cazzo tira ma viene a galla ma viene a galla si si vede? si questo ok grazie 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 Vieni su, faccio vincere questa gara, toccalo, torno valio, torno valio, torno valio, torno Mika si possono fare senza la voglia. Lo schermo è normale che si spegne qua dietro? Si si Occhio Che faccio tutti una canna amiche Occhio lei Guarda quelli Quelli è lavato? Si Bravi ragazzi Anche demoliti Sì Si Ma ci fa male Stai ragazzi Dammi le galle Sì Si 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 Ciao Donno Grazie Grande ragazzi Siete i campioni